Salve a tutti, oggi siamo qui nella nuova sede dell'Estrema Ratio insieme all'amico Loran di T-Tactical che ci accompagnerà in un tour all'interno dell'azienda dove dimostreremo come possiamo passare da un semplice pezzo di acciaio come questo al prodotto finito come questo, passando attraverso i vari processi di produzione e controlli di qualità interni. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti